Raiz mi puoi bannare per un giorno Rocco Braz, grazie Capo Buter Ha fatto un edit Di 8 minuti, perciò me lo vado a godere proprio Nella puntata precedente Ok, vai, fammi vedere Capo Buter cosa ha fatto E' il matelon Nostra sorella e ragazza coreana Oh, cosa succede? Scusa, posso scorreggiarti anche io nella mano? Ma certo Ah, non pensavo che era Penso che era la mia Mi può fare un rocchettone per camera Magari la prossima volta Sei uomo Mio padre Edizione straordinaria del telegiornale della Lore Di nuovo panico per il giovane streamer Simone Panetti Oktar, il mostro che aveva rinchiuso Simone Panetti nelle tenebre ormai un mese fa Dopo essere stato sconfitto da Dario Moccia Trasformatosi in Hector per riportare la pace nel mondo di Twitch E' ricomparso di nuovo schiavizzando lo streamer Panetti con video di coreane Per ora, oltre alle coreane, sappiamo solo che Dario, essendo nel suo nuovo studio Non potrà più fare affidamento ad Hector Vi terremo aggiornati nelle prossime... Ma scusa, c'è Dario su... C'è Dario su... Su Discord? Che sta facendo Dario in questo momento? Se no ce lo vediamo insieme Dario non c'è Forse... Forse su Discord No non c'è Vabbè io entro comunque in live Vediamo un attimo se... Sì entro Ma sta foto c'avevo 16 anni Ma dove cazzo l'hai trovata? Con la ferpa dei Bring Me Into Heroes Horizon Ma come cazzo... Boh Vabbè Maglieco Felpa Bring Me Into Horizon Vabbè Coreane Il nostro veganino sta vivendo una realtà costruita Una realtà fatta di seri E uno Una realtà... Chi è sta pegna? Beato lui Sarà bomba Dario Credo che Octar abbia cambiato completamente tecnica ragazzi Sta schiavizzando Simone con dei video di coreane Che bene eccoci Ciao Octar Dario ciao Dov'è Simone? Al buio Simone sta vivendo la sua vita Perchè se no te la vedrai con me come al solito Ero Che cosa cazzo No 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 Tu non puoi fare niente a Doctaar Nel O 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 Nell'universo Ok il meme Hector non è qui con me Perché sono in studio L'hai pensata bene questa Adesso basta Questo finisce qua Oggi Ma non posso farcela da solo Non posso farcela da solo Cosa sta succedendo Cosa hai in mente Cosa hai in mente Non puoi niente contro di me Davio Ok Mi senti L'orzone Mi senti Ma non mi vedi Eccomi da te Da te Do due Sai che Come ti ho detto prima Ora Non ho Il mio alter ego A proteggermi Ma a volte non ho Grazie Alessietto Gli otto mesi Bentornato A volte Bisogna semplicemente Farsi aiutare da un amico A volte Per recuperare un amico Dall'oltretomba E sconfiggere i suoi mostri Bisogna usare il potere Dall'amicizia Ricordi le carte Dall'or Le carte Dall'or ti avevano messo In difficoltà Ma so che probabilmente Resisterei a un altro Attacco Dall'or Quindi ho deciso Di portare La lore Qui Con me Nardi Grazie 5 mesi Bentornato Che cazzo C'entra nello swiffer No 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 Il motello No Senza suono No Il motello No 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 Non potete fare niente! Niente! Oscar! Arrediti prima che sia troppo tardi! Non mi fare usare l'attacco finale! Qual è l'attacco finale Mario? Arrediti prima che sia troppo tardi! Ma se non ci resta l'altra scelta! La scelta dei compagni inseparati! Incredibile! St'idea della fusione è assurda! Nooo! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Non c'è niente! 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 Spero che tutto questo sia servito al nostro fratello Simone! E che si sia liberato da quella presenza oscura e maligna! Dov'è? 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 Eh... È vero! Eh... Sì! Mi dispiace! Non ancora! Non ancora! Cos'è? Montaggi dinamici e freschi! Un tributer che va agli alto! Non si ferma proprio mai con il montaggio di Capo Capo Booter! Molto molto bravo Capo Booter! Grazie mille! Mi hai... Mi hai... Mi hai fatto ridi... Cioè mi hai fatto molto piacere! E ovviamente nei commenti sto montaggio è così fresco che è venuto a convivere con me un orso polare! Un po' strano come commento! Bello mi è piaciuto molto! Il film è scritto bene! Non mi aspettavo la rivincione del Masella 10 su 10! Veramente figo! Veramente figo! Grazie Capo Booter! Molte 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 grazie! Intanto avevo...